Da oggi scrive in una nota d'Ambrosio Lettieri, Petruzzelli gira in tandem con De Caro, ma in realtà si è accomodato sullo stesso passeggino che per l'occasione è stato trasformato in gemellare, con cui la badante Michele Emiliano li guiderà alla scoperta di vecchi riti e poco rassicuranti abbracci. Una bella notizia per la città che vede cadere l'ultimo velo di ipocrisia sulla presunta superiorità morale di chi pretende di far credere ai baresi che l'età possa far dimenticare mandati elettorali già consumati sulle strade di scelte amministrative di cui si è corresponsabili e che le primarie possono essere un passaporto per una rinnovata verginità politica. In barba lo sfacelo già prodotto. Mi dispiace molto del ritiro di Petruzzelli, ha commentato in una nota Domenico Di Paola di impegno civile. Peccato perché si era presentato a tutti come chi voleva sfidare l'establishment del PD. E invece l'apparato di potere ha prevalso facendo quadrato su Antonio De Caro, il candidato prescelto dal sindaco uscente che a questo punto si impone sulla scena politica e soprattutto dinanzi all'opinione pubblica come l'uomo di Emiliano, raccogliendo così un'eredità pesante da portarsi dietro.